Ciao a tutti ragazzi, sono BatD e benvenuti in questo visio video. Quest'oggi vi mostrerò come costruire una forma automatica di cibo. L'unica cosa che mi manca in questo momento è un secchio. C'ho nell'inventario? No. E già ho fatto le prove, non sono andate per niente bene. Ecco qui il secchio. Quindi possiamo iniziare. Aspè, manca la fornace. Sì, pure una fornace serve. Non chiedetemi perché. Me lo dovete chiedere più tardi. Ecco, la fornace. Allora, innanzitutto mettete la fornace qua con sopra una tramoggia. Così quando qualcosa andrà a finire nella tramoggia, andrò a finire nella fornace. Poi, ricoprire così. Poi, ricoprire così. e non mettere niente. Qua ricoprire così. E mettere su un distributore. distributore. Non così ma... No. No. Ma messo in basso. Ecco. Finalmente. Se siete... Se siete... E poi coprire il tutto. Se siete in creativo, basta solo che collegato con The Land, sta una ripetizione e già potrebbe funzionare. Però se siete in sopravvivenza, aggiungete qua una tramoggia. Così gli oggetti che andranno a finire in questa tramoggia andranno a finire in questo distributore. Se siete in sopravvivenza, fate una parete alta due. su cui metterete i polli, che se siete in sopravvivenza, pure in creativo in realtà, faranno le uova che poi andranno a finire in quel distributore. Prima avevo fatto delle prove se non spassi i polli dappertutto. Oppure gallina, come preferite a voi. Ora, inserisco qua le uova nel distributore di sopra, nel distributore di qua la lava e qua i polli. E poi tocca ai macchinari di redstone. Usate il meccanismo che avevo usato in un video precedente e allargatelo fino ad arrivare ai due distributori. Intanto poi, per sbaglio, me lo sono ripreso mentre cercavo di vedere le uova. Vi ricordo una cosa importante, combustibile per la forn... no, ho sbagliato. combustibile per la fornacea. Ecco qui, per sbaglio mi sono eliminato tutto per sbaglio. Prendete dei blocchi solidi, dei blocchi che non possono andare a fuoco e prendete poi la redstone. così, apre un po' di prodotto nell'orecchio, già un po' inizierebbe a funzionare. Prima collegate al hop-all oppure al dispenser dove ci sono i polli. state attenti a bloccare tutto. Se avete 64 uova che spawnano qui, dovrebbero uscirevi 64 polli. Adesso manca a collegare l'ultimo coso. Qua dovete fare un'altra cosa a parte oppure unico, però c'è il rischio che la redstone non riesca ad arrivare. prendete innanzitutto anche una leva così per spegnere il macchinario, che alcune volte questo rumore non si può proprio sopportare. Il rumore delle galline purtroppo non lo posso togliere. Allora, drop là. e adesso fai il meccanismo qui. Così, ecco qua. E ho sbagliato il dispenser perché questo è già alimentato. Què, què, e casomai per sicurezza mettetelo qua su. Ok. Vedete che ora la fornace si è accesa? Il pollo che uscirà cotto, non so, scrudo per qualche motivo, non so perché. Usci, andrà nella fornace e si cuocerà. Metto a cuocere anche questo altro pollo. E ricordatevi, cercate di avere molto carbone così da poter alimentare bene. Poi, casomai, spegnete il caso della lava. E dopo qualche minuto, qua nel hopper. E questo è il macchinario. Spero che questo video vi sia piaciuto. Non dimenticate di lasciare un sacco di mi piace. Iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non prendervi un sacco di nuovissimi video. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi!